Per le strade e in alcuni casi anche nelle cassette della posta, un foglio a 4 a caratteri cubitali con tanto di titolo, modugnesi onesti, vergogna, in un italiano a dir la verità, approssimativo. Ma il senso c'è tutto, vergogna per non aver difeso il sindaco Nicola Magrone dai 13 consiglieri dissidenti, 7 della maggioranza e 6 della minoranza, che di fatto, rassegnando le dimissioni una settimana fa, hanno mandato a casa il consiglio comunale dopo 15 mesi. Nel volantino c'è anche un appello, giudice ricandidatevi, siamo in tanti dalla sua parte. Ed è così che anche sui social dove ogni giorno c'è l'appello all'ex primo cittadino non demordere. Magrone non aveva più una maggioranza da giugno scorso, con lui erano rimasti soltanto in 5 e che ribadiscono. La scelta di chiudere così la partita è stato un oltraggio. La modalità con cui hanno scelto di tappare la bocca alla metà dei consiglieri comunali è in contraddizione con le loro stesse rivendicazioni circa il ruolo del consiglio comunale. Potevano tranquillamente venire in aula, discutere delle loro ragioni, avviso aperto, di fronte alla città, di fronte a tutti. Invece hanno preferito questo modo brutale che appunto tappa la bocca al consiglio comunale e alla città. Chi invece ha preferito rinviare la fine dell'era Magrone è stato il Partito Democratico e i tre consiglieri di maggioranza dei Benedictis, Libero e Occhiofino. A detta del sindaco io sono stato il più crudele dei suoi oppositori, il che la dice lunga su come quest'anno intero di legislatura sia stata poco più che una questione personale per il sindaco. È assolutamente vero che il PD dal primo minuto ha fatto opposizione in maniera critica e in maniera costruttiva ed è assolutamente vero che con la richiesta di consiglio comunale da tenersi entro la fine di luglio il PD ha chiesto conto al sindaco della crisi politica per poterne parlare in consiglio comunale. La tempistica della crisi avremmo voluta stabilirla e deciderla tutti quanti insieme, però evidentemente abbiamo avuto una diversità di opinioni sull'ultimo atto. Sullo sfondo l'urbanistica e non solo. Ho trovato l'Aro dove sette comuni gestiscono questo e l'Aro è una cosa impegnativissima. Togliere, io sono il presidente, ero il presidente dell'Aro, questa scelta di far sradicare tutto e di far suicidare il consiglio comunale e quindi interrompere spezza un percorso importante. Ci sono pressioni, ci sono attenzioni, ci sono su questo, su questo. Che richiede e richiedeva ciò che io ho fatto. Ho partecipato a tutte le riunioni dell'Aro. Adesso pubblicheranno il bando e adesso non c'è il sindaco e adesso non c'è più il sindaco. E' una situazione, là basta poco, basta poco veramente lì. Anche la scelta del metodo dell'offerta più vantaggiosa o dell'altra via che devi fare un progetto molto più così, sono scelte strategiche che se domessero per avventura o disavventura essere stabilite a tavolino preventivamente sarebbe una tragedia. Intanto la settimana prossima il Tar deciderà in via cautelare sui ricorsi presentati da chi si è visto bloccare le pratiche edilizie dell'ufficio tecnico che ora con il commissariamento del comune resta nuovamente senza un dirigente nominato a dicembre scorso dal sindaco come incarico intuito persone.